Sarà la Cooper Pool di Salerno la nuova ditta che si occuperà delle pulizie al progetto case presumibilmente da settembre dopo le note vicende e anche le tante polemiche che hanno caratterizzato fin qui la gestione con una ditta completamente inadempiente che non pagava gli operai e con gli utenti che spesso si sono lamentari di pagare dei servizi che però di fatto non sono stati mai erogati. Ma non è la prima novità perché ci sono anche altri interventi che riguardano i progetti case in particolare cinque interventi i primi per mettere mano a questo complesso patrimonio immobiliare in maniera organica dopo nove anni. In particolare alcuni interventi sono già stati eseguiti Paganica, Gignano, Copito 3, Sassa, Sant'Antonio e Bazzano si è trattato principalmente di piccoli lavori per rivarare delle infiltrazioni per mettere in sicurezza le scale condominali per realizzare anche l'impermeabilizzazione delle coperture o semplicemente per riparare tapparelle danneggiate. L'amministrazione con i fondi a disposizione ha ritenuto di portare avanti subito i lavori più urgenti anche in alcuni mapp. Gli interventi più consistenti invece sono stati appalti e si realizzeranno entro l'anno. Riguarderanno Paganica 2, Copito 3, Bazzano, Sant'Antonio e Cesi di Preturo. Interventi che vanno dalla manutenzione degli elementi legno e metallo alla sostituzione delle parti deteriorate, dalla sistemazione del vano scala che collega garage al primo livello alla realizzazione di sistema di raccolta delle acque e dei vani ascensori e ancora saranno sistemati i balconi togliendo il legno e sostituendolo con grigliati in acciaio e altro ancora. Saranno sistemate anche delle mattonelle rotte o battiscopa danneggiati sia dentro che fuori. Sono risposte alle sollecitazioni date dai residenti, ha spiegato l'assessore Guido Lils. Abbiamo pensato dei lavori organizzati per lotti funzionali, ce ne saranno anche altri. Per quanto riguarda invece le imprese di pulizia e questa presumibilmente inizierà ad operare dopo l'estate ci vogliono i tempi tecnici per il licenziamento e la riassunzione del personale che dunque confluirà in questa nuova ditta di Salerno.